Stai ascoltando un podcast Rizzoli Education Tra la seconda metà del Cinquecento e l'inizio del Settecento si accende prima ma poi si diffonde una querelle, cioè una discussione sul ruolo delle donne in società e in famiglia, sui loro valori e le loro virtù, sul loro accesso all'educazione, sul loro relazionarsi con gli uomini. In questa querelle fanno sentire la loro voce i trattati in difesa delle donne di Moderata Fonte, di Lucrezia Marinella e di Arcangela Tarabotti. In questa puntata vogliamo raccontarvi come tra la seconda metà del Cinquecento e l'inizio del Settecento cominci a diffondersi in Europa una nuova consapevolezza, che fosse ingiusto considerare le donne ai margini della cultura, ma anzi fosse da rivendicare un loro protagonismo, con la decisione a farne parte e a portare il proprio punto di vista, non di rado in polemica, con la cultura dominante. La letteratura parla di noi, eppure dove sono le donne? Come si spiega la loro assenza o trasparenza nella storia letteraria e nella società? Sono Maria Serena Sapegno, docente di letteratura italiana e di studi delle donne e di genere alla Sapienza Università di Roma. In questo podcast sarò affiancata da Martina Manfredi Selvaggi, dottoranda di studi letterari e di generi con una tesi sul rapporto tra letteratura e neuroscienze. Insieme vi raccontiamo l'altra voce. Ciao a tutti e a tutte, ciao Martina. Oggi cominciamo dal secondo cinquecento, l'epoca in cui si è avuta in Italia l'onda lunga, che derivava dall'umanesimo, del maggiore accesso delle donne all'istruzione, della diffusione della stampa, che avevano prodotto cambiamenti importanti. Una crescente alfabetizzazione, l'aumento del numero delle lettrici e l'affacciarsi allo spazio pubblico di diverse cantanti e attrici. E l'emerge di interessanti pittrici, spesso figlie o sorelle di artisti, in generale la nascita di un nuovo pubblico femminile. E tutto ciò nonostante la forte campagna messa in atto dalla Chiesa contro riformata per il disciplinamento delle donne sotto l'autorità di mariti o di padri spirituali. L'esperienza delle scrittrici attive tra 4 e 500, soprattutto scrittrici di poesia lirica e di lettere, aveva lasciato anche il senso di una tradizione al femminile, cui in effetti varie scrittrici fanno riferimento. Anche nei conventi femminili, pieni di donne del ceto medio aristocratico per ragioni di politica familiare, si fa teatro, si fa musica e si producono diversi tipi di scritture, oltre a quelle di meditazione spirituale, molte delle quali vengono stampate. In molte si trovano segni del contatto che le suore scrittrici avevano con il mondo culturale esterno al convento, nonostante l'irrigidimento dovuto appunto alla contro riforma. È in tale contesto, ricco e complesso, ma anche contraddittorio, che trova spazio la ripresa della cosiddetta querelle des femmes. Certo, la querelle des femmes, una discussione iniziata in Francia alla fine del Medioevo e che si è sviluppata tra umanesimo e rinascimento in Europa. Un vero e proprio dibattito. Querelle significa disputa e rimanda al tono polemico con cui viene portata avanti. È un dibattito sul ruolo delle donne all'interno della società e della famiglia, sul loro status, sui loro valori e sulle loro virtù, sul loro accesso all'educazione, su come dovessero configurarsi le relazioni tra donne e uomini. Nel Cinquecento, in Italia, se da un lato le donne, come dicevi, accedono maggiormente all'istruzione e occupano la scena pubblica, dall'altro resta una forte disuguaglianza, sia sul piano giuridico che su quello teorico. Ad esempio, permane l'idea, basata su Aristotele, della subalternità, l'idea dell'inferiorità intellettuale della donna rispetto all'uomo, un'inferiorità iscritta per natura nel sesso femminile. E questo era un argomento predominante, soprattutto se si pensa alle riflessioni legate al diritto, alle scienze naturali e alla teologia. Tra Quattrocento e Cinquecento, invece, come modello per i testi in difesa delle donne, si utilizzavano sia il De Mulieri Busclaris di Boccaccio, sia una lettera in cui Petrarca difendeva la dignità delle donne attingendo all'antichità classica. Il più famoso in tutta Europa era certo il dibattito che si teneva nel Terzo Libro del Corteggiano, un trattato in forma dialogica scritto da Baldassarre Castiglione. Questi testi, però, non erano privi di contraddizioni, a volte non si allontanavano dalla riproposizione di topoi e stereotipi. Ma quando, in Italia, le donne intervengono in prima persona nella Querelle des Femmes? Quando si consolida la consapevolezza dell'oppressione? E quando nasce un senso di ribellione alla subalternità? Eh, questo lo sappiamo fino a un certo punto, ovviamente, ma nel 1599 esce a stampa un testo interessante di tal Giuseppe Passi intitolato I donneschi difetti, l'attacco più violento nei confronti delle donne a ribadirne l'inferiorità. Ci saranno due importanti reazioni delle donne nell'anno successivo, entrambe sostenute dall'Accademia Veneziana. Una è l'uscita postuma, a otto anni dalla morte, del trattato di moderata fonte, modesta da pozzo si chiamava, Il merito delle donne, un dialogo, appunto, di stampo rinascimentale che vede sette donne discutere in giardino di pregi e difetti del matrimonio, della condizione di libertà offerta dalla vedovanza, dei pregiudizi contro le donne, delle loro qualità e dei difetti degli uomini che le trattano in modo inaccettabile. L'autrice era una scrittrice veneziana di talento e nel dialogo sviluppa un pensiero originale. Sogliono anche molti a questo proposito, seguì Leonora. Proibire alle loro donne l'imparare a leggere e scrivere, allegando ciò a essere ruina di molte donne, quasi che dalla virtù ne segua il vizio suo contrario. Eppur non si avveggiano che, come voi avete detto del pulirsi, così, e con più ragione si deve dir dell'imparare alcuna scienza, poiché è da credere che più facilmente possi cascare in errore un ignorante che un saputo ed intelligente, poiché si vede per esperienza, esser molto più le impudiche ignoranti che le dotte virtuose. In questo brano compaiono già diversi temi che abbiamo detto essere centrali nella querelle. Il divieto all'accesso all'istruzione e il suo rapporto non soltanto con vizi e virtù, ma anche con la legittimazione della volontà delle donne all'interno dei rapporti amorosi con gli uomini. Un altro elemento interessante è un'evidente differenza di questo testo dai dialoghi rinascimentali, in cui le donne erano presenti, ma praticamente sempre mute. Qui, invece, abbiamo una scrittrice che fa prendere la parola a Leonora, la quale apre il suo ragionamento con un'affermazione, che ci fa comprendere quanto fosse grande il potere maschile rispetto alla possibilità per le donne di imparare a leggere e scrivere. I maschi, infatti, dice all'inizio, possono proibirlo. Il discorso smonta la principale motivazione con cui, di consueto, questa proibizione veniva giustificata. La connessione tra l'accesso delle donne all'istruzione e la corruzione della loro virtù. Leonora, invece, sostiene che non è l'ignoranza che protegge dal vizio, ma è l'essere istruite che permette di compiere le scelte migliori. Tra l'altro, tre mesi prima dell'uscita del dialogo di moderata fonte, Lucrezia Marinella aveva dato alle stampe il suo, la nobiltà e l'eccellenza delle donne e i difetti e i medicamenti degli uomini. Le due uscite sono ovviamente connesse, poiché all'Accademia Veneziana avevano voluto associarli, ristamparli e farne così una questione importante. Questo testo ha la forma del trattato tradizionale e Marinella lo adotta per confutare punto per punto gli argomenti usati dai contemporanei contro le donne, dimostrando così di sapere usare i loro strumenti e non trascurando l'ironia per criticare l'arroganza e la vanità maschile. Uno dei temi forti è sicuramente quello dell'importanza cruciale dell'accesso all'istruzione e la rivendicazione orgogliosa del fatto che anche le donne hanno fatto cultura. In particolare è assai rilevante che Marinella colga in tutta la sua importanza il diffondersi della scienza, che è la novità del tempo, e la possibilità per le donne di avervi accesso. Credono alcuni poco pratichi delle storie che non ci siano state né ci siano donne nelle scienze e nelle arti perite e dotte. Se questo ha presso loro pare impossibile, né si possono ciò dare ad intendere, ancor che lo veggano e odano tutto il giorno persuadendosi che Giove abbia dato l'ingegno e l'intelletto a maschi solamente, lasciandone le donne ancorché della medesima spezie prive. Ma se quelle hanno la medesima anima ragionevole che ha l'uomo, come di sopra ho mostrato chiaramente, è anche più nobile. Perché ancor più perfettamente non possono imparare le medesime arti e scienze le quali imparano gli uomini? Anzi, quelle poche che alle dottrine attendono divengono tanto delle scienziate ornate che gli uomini le invidiano e le odiano, come sogliono odiare i minori, i maggiori. Qui siamo proprio nel pieno della querelle, intesa in chiave polemica. Vediamo esattamente come l'attacco di un pregiudizio che si trasforma in una precisa posizione secondo la quale le donne non sono dotte in scienze e arti si accompagna all'attacco a chi di quella posizione portatore, ovvero sia alcuni poco pratichi delle storie. E siamo poi nel pieno della querelle perché di nuovo viene fuori un tema centrale. Si gioca sul piano della natura, anzi della divinità, Giove, che sembrerebbe aver privato costitutivamente le donne dell'ingegno. Ed è su questo piano che Lucrezia Marinella lavora, specificando per l'appunto, che le donne sono della stessa specie degli uomini, hanno la stessa anima ragionevole. La stessa? In realtà un'anima che è anche più nobile. La scrittrice osserva poi che ogni volta che una donna cede alle arti e alle scienze diviene così competente da venire ornata, perché perfettissima. Ed è proprio questa perfezione, ci dice Lucrezia, a scatenare negli uomini invidia e odio, due termini molto forti associati al sentimento del maschile rispetto al femminile, due termini che risuonano anche nella nostra contemporaneità. Ma se vogliamo tornare al primo periodo della cultura controriformata, contrariamente a quanto si ritiene normalmente, furono anche diversi religiosi a prendere parte in difesa delle donne nella querelle des femmes. E questo corrisponde a un clima aperto alle donne nelle scritture religiose, ciò che incoraggiò anche le donne laiche a prendervi parte. Abbiamo detto che la cultura conventuale era spesso ricca, offriva alle donne colte un terreno favorevole, ma così come erano cominciate a levarsi forti voci contro il matrimonio forzato, così ci furono forti grida contro la monacazione forzata. E la più nota tra tutte è quella di Arcangela Tarabotti, anche lei veneziana, che non aveva mai accettato la decisione paterna di chiuderla nel convento di Sant'Anna. Era una donna colta in rapporto con il mondo laico, perciò ebbe l'appoggio dell'Accademia degli Incogniti, che l'aiutò a pubblicare una serie di testi, veri e propri atti d'accusa contro il regime dei padri e la tradizione misogina. Il testo, che la rese più famosa perché a stampa nel 1643, si intitolava Il Paradiso Monacale, su modello dantesco, e meno polemico e rivendicativo rispetto al primo libro scritto a vent'anni, Tirannia paterna, che non fu pubblicato e uscì postumo, con il titolo La semplicità ingannata, e fu messo all'indice dei libri proibiti nel 1661, perché condannava la pratica della monacazione forzata, rivendicava la dignità femminile e il diritto all'istruzione. Il successivo, l'Inferno Monacale, perché come Dante, Inferno, Paradiso, Purgatorio, restò inedito per 400 anni, ma il manoscritto circolava. Giudicate le donne stolte perché non possono essere sapienti, le private degli studi e dei maestri, le allevate e le nutrite come fossero senza giudizio e sentimento, e date loro per direttrice negli insegnamenti un'altra femmina, pur anche inerudita e che malamente la amaestrano i primi elementi, che concernono, al saper leggere, senza cognizione alcuna di filosofie, di leggi e di teologie. Se le vedete con una penna alla mano, i gridi sono impronto, imponendo loro, sotto pena dell'istessa vita, che, tralasciatolo scrivere, attendano a lavori femminili del lago e della conocchia. Guai a vedere la penna in mano a una donna, solo l'ago e la conocchia. Torna anche qui il tema fondamentale dell'educazione. Il giudizio sulle donne è che siano prive di senno e di sentimento, e dunque i meritevoli di insegnamento da parte di maestri maschi che fossero istruiti anche in diritto, filosofia e teologia. Discipline evidentemente proibite alle donne del passato e anche a quelle contemporanee alla stessa Tarabotti. Di nuovo viene fuori, come era per moderata fonte, la mancanza di libertà per le donne all'accesso alla cultura, e anzi, nella parte finale del brano, la proibizione su cui si insiste è quella della scrittura, che provoca, grida e mette a rischio di pena di morte. Perché la scrittura era considerata così pericolosa? Cosa voleva dire per una donna? Poter scrivere.